queste giornate di festa del 25 aprile del primo maggio offrono un fantastico ponte per i cittadini e per i turisti per vivere genova e per scoprire tutte le sue iniziative in questo periodo i musei e il sistema museale della città effettuerà aperture straordinarie come già effettuato a pasqua e sul successo di pasqua i cittadini e i turisti potranno visitare i musei con le loro mostre il museo di sant'agostino con la mostra di leonardo il polo di nervi con le mostre di arte contemporanea e moderna ma anche vivere il parco di nervi visitare il rosetto e l'iniziativa parchi in fiori insomma tutto il sistema sia del centro che del levante che del potente è aperto e si offre nel migliore dei modi ai turisti ai cittadini siamo qui in strada nuova via garibaldi cuore del patrimonio unesco dove passeggiando lungo questa splendida strada si possono incontrare gli antichi palazzi dei rolli ma poi si può scendere verso il centro storico o anche proseguire fino a palazzo ducale che dal primo maggio ospiterà la mostra di kubrick una splendida passeggiata tra palazzi antichi palazzi dei rolli patrimonio unesco che arriva fino al porto antico al waterfront con il suo mare il suo cielo e le sue iniziative strutture scientifiche dove ci si diverte e si impara lì troviamo l'acquario che è aperto tutto il periodo delle festività del ponte troviamo il galata museo del mare ma poi anche le ultime novità wow che è un science center con una splendida mostra sul cervello e anche il museo nazionale dell'antartide appena riaperto con visita congiunta insieme alle strutture del porto antico ecco la varietà della nostra città che può essere scoperta vissuta in questi in questo periodo e anche con più calma conosciuta curiosando nel centro storico dal centro della città dopo aver passeggiato sul waterfront a contatto col mare possiamo salire senza macchina con la funicolare fino al parco delle mura la funicolare si prende in piazza zecca che è proprio al limite del complesso unesco e in maniera sostenibile per l'ambiente possiamo salire sulle alture dove nel verde con dei percorsi a piedi in bicicletta di trekking di corsa possiamo vedere un ambiente spettacolare che guarda al mare vede tutta la città e ci permette di stare a contatto con la natura e quindi di anche incontrare anche le for le antiche fortificazioni veramente in un paesaggio unico e piacevole da sfruttare a conclusione del periodo di festività domenica 5 maggio alle 17 presso il salone del maggior consiglio a palazzo ducale aperto a tutti cittadinanza e turisti turistici sarà uno splendido concerto da parte dell'orchestra di san pietroburgo e questa iniziativa rientra negli scambi culturali e turistici che abbiamo con diverse città russe il volo genova mosca è importante per la nostra città perché facilita la connessione e le iniziative che si stanno costruendo sono numerose e vedono anche un forte incremento turistico del popolo russo verso la nostra città